Claudio Pazzaglia, direttore CNA Bologna, questa mattina CNA ha firmato con l'EPIDA un protocollo d'intesa relativo alla formazione per accedere a SPID, quindi un accordo molto importante. E' molto importante in quanto noi rappresentiamo varie generazioni di associati, quelli post digitalizzazione e quelli pre-digitalizzazione. Io faccio parte di quelli e abbiamo imparato col tempo a usare un po' gli strumenti. Il Covid, la vicenda del Covid ha incrementato questa necessità di collegamenti a distanza, abbiamo imparato a usare videocamere, telefoni cellulari per dialogare con gli altri e la vicenda dello SPID si inserisce in un contesto favorevole, per assurdo, è favorevole in quanto tutti i cittadini con il distanziamento hanno cominciato ad apprezzare come avere dei servizi anche della pubblica amministrazione attraverso delle piattaforme di collegamento. Quindi questa identità digitale probabilmente porterà ogni singolo cittadino a essere più avvezzo a comunicare con la pubblica amministrazione, a fare anche superare i vecchi modelli delle file, degli appuntamenti e quindi probabilmente per tutti noi sarà un salto di qualità anche nella vita sociale, nella nostra vita amministrativa e avremo anche più tempo libero per fare altre cose. La cosa vantaggiosa è che grazie a CNA pensionati aiutiamo gli ultra sessantenni, settantenni a entrare in questo mondo e l'epida ci dà una grande mano perché formerà alcuni nostri collaboratori e quindi faremo un grande risultato, forse faremo un salto di qualità anche nelle relazioni con i nostri associati. Perché diciamo l'accordo prevede appunto che l'epida aiuti CNA a formare dei tutor che a loro volta poi insegneranno ai soci, in particolare a quelli più anziani, come accedere, come utilizzare. Esattamente, il cittadino dovrà imparare col tempo a comunicare tramite il modello web, avere questa sua identità, un'identità importante perché gli permette anche di conoscere tutta una serie di dati che l'amministrazione pubblica ha in possesso e probabilmente a livello esponenziale si possono anche presupporre ulteriori miglioramenti anche per ulteriori attività, oggi impensabili, con il dialogo con l'ente locale, piuttosto che con gli enti previdenziali, piuttosto che con il sistema sanitario, che permetteranno probabilmente anche una economicità maggiore dal punto di vista dell'efficienza del sistema pubblico privato. Grazie. Grazie.